Buongiorno, sono Luigi Imbriani da Napoli, la scuola calcio Pasquale Foggia. Io faccio l'allenatore dei 2002, più il direttore generale alla scuola calcio. Questa è la seconda volta che partecipiamo al torneo. La prima volta l'abbiamo vinto con il 98 qui al torneo. È stato un grandissimo evento, una grande organizzazione, sia come strutture, in tutto. Abbiamo trovato un'accoglienza esagerata e siamo contenti di partecipare e ritornare dopo tre anni qui per questa manifestazione. Grande inaugurazione, come sempre. Dobbiamo ringraziare Peppe Malafonte e tutte le strutture e la possibilità di giocare su questi campi meravigliosi.